Chi senti ora che ti aspetta? Finisce l'era delle file davanti agli sportelli degli uffici pubblici e degli spostamenti fisici da un comune all'altro. Da computer o smartphone, in un clic, si può adesso fare richiesta del cambio di residenza su tutto il territorio nazionale, chiedere il rimpatrio per i cittadini iscritti all'anagrafe italiani residenti all'estero o la variazione di abitazione nello stesso comune, direttamente dal portale dell'anagrafe nazionale della popolazione residente, che contiene ora i dati di 67 milioni di italiani. Il nuovo servizio si aggiunge alla possibilità di scaricare 14 diversi certificati. Il progetto del Ministero dell'Interno e di quello della transizione digitale è stato realizzato da Sogei, azienda tecnologica pubblica. Con la propria carta di identità elettronica, SPID o carta nazionale dei servizi, si può accedere al portale dell'anagrafe dai siti www.anagrafenazionale.interno.it e www.anagrafenazionale.gov.it, compilare online la richiesta e inviarla al comune competente e dimenticare così per sempre la nevrosi da timbri e scartoffie. Grazie.